Sono Giorgio Marino, responsabile d'area dei laboratori Legren, un'azienda italiana, nonostante il nome faccia pensare a una struttura francese, siamo italianissimi, la sede è a Bordighera, in quel di Imperia, ci occupiamo di omeopatia, omotossicologia e fitoterapia complessa. Abbiamo scelto di partecipare all'iniziativa Pnei for You della professoressa Cornia perché è sicuramente attualmente la proposta didattico-terapeutica più interessante che il panorama nazionale possa offrire e poi anche perché c'è la professoressa Cornia stessa che è un personaggio di assoluto straordinario livello sia umano che professionale che didattico.